ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di around the table oggi non apriremo assieme la scatola di alcun gioco e non risponderemo alla domanda a che gioco stiamo giocando bensì vi racconterò quello che ho fatto questo weekend ma non temete non vi farò vedere ore infinite di diapositive della mia gita al mare o in montagna perché lo scorso weekend sono stato a idea g una manifestazione che dal 2005 si pone l'obiettivo di fare incontrare e confrontare tra di loro i game designer sì avete capito bene questo è un game stalk idea g è una manifestazione itinerante che dal 2005 si pone l'obiettivo di fare in modo che game designer possano confrontarsi tra di loro al fine di migliorare il proprio lavoro una manifestazione itinerante quindi ci saranno varie tappe in tutta italia con mi pare una tappa nazionale a parma ma non ne sono sicuro ad ogni modo in questo box vi lascio tutte le date dei prossimi appuntamenti questo comunque è l'immagine di copertina della pagina facebook di idea g che vi consiglio di seguire per essere sempre aggiornate con le ultime tappe di questa manifestazione come vi dicevo l'intento di idea g è quello di fare in modo che game designer giovani meno giovani pubblicati non pubblicati possano incontrarsi e far provare i propri prototipi ad altri game designer e anche a play tester in questo caso era idea g proprio come play tester anche se vi devo confessare che un paio di giochini li sto progettando anche io ma la mia proverbiale lentezza fatto sì che non fossero ancora pronti per essere sottoposti a altri game designer la stessa proverbiale lentezza che mi sta facendo rimandare un progetto che avevo con gli amici di Artemis che però presto potrete vedere dicevo la manifestazione è un modo per far sì che i game designer per l'appunto possano far provare ad altre persone i propri prototipi facendo in modo da avere un facendo sì che ci possa essere un primo test un test con per l'appunto altri professionisti altri game designer ma anche altri appassionati play tester in maniera tale da affinare o riuscire a intravedere qualche piccola criticità nel proprio lavoro la cosa che mi è piaciuto di più di questa manifestazione era quasi l'orizzontalità dell'esperienza c'era tantissima apertura mentale c'era tantissima voglia di confronto e ogni progetto che ho visto ogni designer con cui ho parlato mi sembrava veramente molto molto interessato ai feedback che ricevevano sia da noi pretester sia dagli altri game designer l'altra cosa interessantissima è l'approccio perché ogni game designer approcciava al gioco in maniera del tutto differente c'erano quelli che avevano una mentalità più scolastica quelli che avevano una mentalità più per l'aspetto business quelli che ibridavano tutte le esperienze quelli che semplicemente volevano fare in modo che il loro gioco fosse esattamente in una certa maniera al di là di tutte le convenzioni è stato veramente molto interessante come vi dicevo c'erano varie tipologie di esperienza del game design c'erano dei game designer molto esperti c'erano ragazzi che avevano partecipato ai corsi come quello di tambù che avevano fatto che stanno seguendo dei corsi universitari di game design nell'ambito ludico per esempio e c'erano game designer che si vede che avevano una grande esperienza e che anche nei loro prototipi avevano fatto dei giochi praticamente fatti e finiti che bastava soltanto un piccolo miglioramento nella grafica e erano pronti per essere venduti come vi dicevo l'altra cosa molto interessante è che insieme a dei giochi veramente dei cinghialotti per i giocatori più eurocentrici c'erano anche tantissimi giochi per le famiglie dei veri e propri family e mi è piaciuto proprio provare questa due queste tipologie di gioco l'una dopo l'altra ad esempio uno dei giochi un designer dei giochi family era davide di petrillo che mi ha fatto provare i due suoi giochi per meglio dire un gioco che veniva evoluto in due volte il primo bla 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 o turno sa che era praticamente un gioco di catene di parole molto carino perché adatto veramente a tutta la famiglia super immediato super veloce da imparare che però aveva diverse cose interessanti innanzitutto era un gioco veramente adatto a tutti si spiegava in due minuti aveva la possibilità di essere pure modificato tantissime volte inoltre il gioco si apriva a diventare un vero e proprio gadget con una modificabilità in grado di essere di diventare anche un gadget per grandi aziende piccole aziende negozi eccetera eccetera la modabilità ci permetteva anche di avere lo stesso gioco in tantissime versioni differenti e questa era una cosa veramente molto carina l'altro gioco era lo stesso motore che però veniva applicato a un tabellone a una serie di altre cose da fare in questo caso mi è piaciuto tantissimo la volontà di davide di ascoltare i feedback dei nostri di game design nostri di appassionati ma anche dei game design per affinare il lavoro che aveva fatto in famiglia e anche questo è bello del game design vedere come dei giochi che nascono in famiglia possono diventare dei veri e propri progetti altro gioco non proprio family ma veramente adatto a un buon numero di persone l'ha proposto uno dei padroni l'ha proposto uno dei padroni di casa sto parlando di luca coppola che esattamente un anno fa vi presentavo parlandovi di parteno play il gioco in questione è cake show un gioco di gestione dadi che ci porta in una delle cucine dei programmi di cucina chiamiamo tanto come cake star oppure ancora meglio bake off insomma questi show televisivi il gioco per quanto mi riguarda era veramente molto carino era un gioco in cui bisognava tirare dei dadi e piazzarli su un tabellone al fine di completare una ricetta luca involontariamente ha creato questo gioco anche pensando a quelli che hanno la morte nelle mani perché ha inserito anche un sistema per adoperare i dadi anche senza che si fosse bravi a lanciarli un'idea molto carina che quasi inconsapevolmente ha inserito forse una un safe game non so come dire il gioco anche in questo caso per quanto mi riguarda era quasi pronto per essere per essere scatolato e venduto ma aveva un paio di criticità secondo me solo dal punto di vista della comunicazione della grafica diversità però il gioco con quanto mi riguarda ci stava tutto e poteva diventare veramente molto interessante e anche dai nostri feedback luca ha subito tentato di modificare in alcune parti l'altro gioco che ci ha presentato luca coppola è stato venus flying pizza forse l'unico problema era il nome come sapete a roundtable siamo molto appassionati di rompicapo ne abbiamo visti tantissimi nell'ultimo periodo forse nell'ultimo anno e questo era un rompicapo in cui siamo dei fattorini spaziali che dobbiamo consegnare che dobbiamo consegnare delle pizze per l'appunto nello spazio con una sequenza di pianeti random e una serie di tessere in una configurazione 3x3 devono seguire determinate direzioni il gioco era molto interessante e forse anche in questo caso c'è stato un errore di comunicazione durante la spiegazione del gioco stesso ma già dopo che abbiamo dato noi dei feedback e altri ragazzi l'hanno provato gli hanno dato dei feedback luca l'ha modificato il secondo giorno era già molto più fruibile e questa l'esperienza di idea g la possibilità di modificare live il gioco avere un beta test un alpha test costante per modificare riuscire a limare quelle imperfezioni che lo rendevano poco fruibile un altro gioco che mi ha colpito tantissimo e che ho provato con molto piacere è di enzo amato e si chiama crazy tank enzo amato ha ibridato l'esperienza dei war game ai giochi di movimento nascosto creando questo gioco pieno di ansia e pieno di nebbia abbiamo dei siamo dei carristi intenti ad abbattere il carresta che abbiamo di fronte che però è nascosto nella nebbia con un sistema di movimento nascosto il suono che ci fa scoprire l'avversario dovremo riuscire ad abbattere tutti i suoi carri armati oppure passare dall'altra parte alla fine al fine di ottenere il maggior numero di punti un gioco veramente molto interessante che è insommato ha praticamente completato poche ore prima di arrivare a napoli a idea g e anche in questo caso il beta test continuo ha fatto in modo che il gioco modificasse poche cose ma renderlo sempre sempre più fruibile una cosa molto interessante che veramente mi è piaciuta tantissimo un gioco da tenere d'occhio secondo me e passiamo al vero e proprio cinghialone che ho provato la mattina della domenica a mente fresca bagdad di fabio lopiano e nessere mangone un gioco che secondo me era pronto se gli avessero messo una scatola l'avessero messo sugli scaffali dei amici di irtemis l'avrei nettamente comprato un euro game con pick up and delivery e un sistema di collector set ma anche di combo sulle carte veramente molto interessanti siamo nella bagdad dell'apice dell'islam e dobbiamo fondamentalmente acquisire punti in tantissime maniere differenti portando le nostre nuove affare dei commerci ma anche costruendo delle case ma anche collezionando dei set stando attenti ai ladri che ruberanno ma anche i topi che ci faranno venire le malattie ma noi potremmo anche fare punti ammazzando i ladri catturando i ladri e derattizzando le aree un gioco veramente che mi è piaciuto tantissimo e che secondo me era pronto per essere pubblicato forse un po di problemi per quanto riguarda il bilanciamento per il numero di giocatori ma secondo me era pronto e forse anche qualche problema di grafica da risolvere ma il gioco era pronto e non sarebbe sfigurato davvero nelle librerie di nessuno secondo me era pronto e nestore mangone fabbio lopiano sono dei professionisti da qui non si esce ho provato tanti altri giochi ma l'ultimo di cui voglio parlare è Cutris di Aliosha Hamma e Michele Visconti un gioco di fisica quantistica con i gattini e ovviamente come il gatto di Schrodinger cosa no un gioco che mutua dal Tris un sistema il sistema di gioco ma che con un sistema di carte che ci permettono di girare queste maniene di questi gatti che sono bianchi o neri o bianconiere in varie diversioni un gioco molto interessante che già al tavolo ha scatenato un dibattito tra vari game design tra quello che l'abbiamo progettato è un altro ragazzo che si sono confrontati sul metodo migliore per renderlo in una certa maniera il gioco a me è piaciuto ho capito esattamente cosa stava facendo Michele Visconti che era il ragazzo che era lì a proporcelo quando ha creato il gioco nel momento in cui si capisce che un gioco di fisica quantistica ti vorrebbe spiegare la fisica tu già hai tutti gli elementi e quindi sai esattamente quello il suo scopo i consigli dell'altra persona dell'altro game designer che erano attorno al tavolo con noi servivano per limarlo e renderlo un pochino più gioco più user ed user experience più adatto all'esperienza di gioco vera e propria insomma quello che è successo è che i due sono confrontati hanno capito quali potevano essere gli scopi l'uno dell'altro per quanto riguarda il gioco era molto interessante e sono d'accordo sul fatto che potesse essere migliorato potesse essere modificato per renderlo più gioco ma lo scopo era chiaro e immagino che potesse anche rimanere così com'è lasciando il gioco lasciando il gioco per l'appunto così com'è rendendolo comunque fruibile per chiunque l'avesse voluto provare ho provato tanti altri giochi alcuni ancora in una fase troppo embrionale per parlarne altri di cui non si può parlare perché verranno presto pubblicati ed è sempre una gioia quando succede questo altri che ho visto però non sono riusciti a assimilare al meglio altri che sembravano troppo complicati per essere descritti in poche parole qui su youtube senza dedicargli un video intero però alla fine la cosa più importante di DAG è proprio l'esperienza di per sé l'orizzontalità dell'esperienza al tavolo la capacità di ascolto il confronto a volte anche acceso tra i vari game designer ma sempre con una voglia di confrontarsi sana e pulito come dovrebbe sempre essere attorno al tavolo una voglia di migliorare di tentare di limare i propri giochi al meglio un'altra cosa carina è che finalmente si parla di giochi senza doversi mettere in mostra come spesso accade virtualmente c'era veramente tanta voglia di parlare anche di altre cose magari di esperienze relative al tavolo di prodotti di editoria che stanno per arrivare o di quelli che sono arrivati confrontarsi sul mercato insomma parlare del board game al di là dei nostri obiettivi personali del gioco che stiamo sviluppando o del gioco che stanno sviluppando gli altri come se fosse una sorta di picnic ludico in cui siamo tutti amici perché condividiamo un hobby veramente interessante vi lascio l'elenco di tutti gli eventi di DAG che sono programmati da oggi alla fine dell'anno invitandovi però a seguirli sui social perché se volete essere informati su nuove date che si andranno ad aggiungere quello è l'unico sistema ricordatevi che però bisogna prenotare soprattutto i game designer devono prenotare il tavolo per appunto far provare il gioco e mandare un from in cui descrivono il proprio gioco una cosa molto interessante importante a questo punto vi invito come sempre a raccontarmi cosa ne pensate di DAG quali sono i giochi in questa carrellata che vi sono piaciuti di più cosa ne pensate se avete partecipato ai DAG e quali sono le vostre sensazioni su questa manifestazione e nel caso in cui siate the board game designer quali sono i consigli che volete dare a quelli in erba e quali sono i consigli che vorreste che avreste voluto quando avete cominciato scrivetemi tutto qui in un commento su youtube ma anche su facebook instagram third x che sarebbe twitter bluesky reddit tumblr e tutti gli altri social che adoperiamo a questo punto non resta altro che salutarci per ritrovarci sempre qui sempre di ag ma anche a round table ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti